Leone, devo parlarti di una cosa molto importante. Questo è un video che riguarda me ma riguarda anche te. Quindi se ti fidi di me ti chiedo una cosa. Rimani a guardare il video fino alla fine. Perché alla fine di questi 8-10 minuti, quelli che saranno, devo proporti una cosa che ti cambierà davvero la vita. Questa storia probabilmente la sai già ma te la ripeto ancora una volta e poi capirai il perché. All'inizio dell'altro anno, gennaio 2023, mi sono ritrovato in un periodo della mia vita che non mi piaceva affatto. Non mi piacevo io, non mi piaceva quello che stava facendo, ero perso. Ero come una nave che vaga per l'oceano senza una meta, ok? Non ero più troppo ispirato a fare i video sul vecchio canale e inoltre la mia vita personale si stava lentamente sgretolando. E questo è il fatto, eh? Che si stava lentamente sgretolando. Non tutto di un tratto e quindi è successo qualcosa e poi ho dovuto darmi una mossa e cambiare. No, piano piano, giorno dopo giorno, sentivo che si stava sgretolando. Beh, prima di tutto non ero più ispirato a fare quello che avrei dovuto fare, ovvero il video su YouTube. E di conseguenza spercavo molti giorni a lavoro. Cioè proprio giorni presi e buttati via nel cestino. Buttavo via il mio tempo per ore e ore, alle volte anche giornate, e mi vergogno a dirlo un poco, sui social. Mi ingozzavo di cibo spazzatura, avevo pure iniziato a fumare costantemente dell'erba. Perché? Per non pensare a quello che era un po' il vuoto esistenziale che provavo in quel momento della mia vita. Non sai quante volte rimandavo la sveglia perché non volevo svegliarmi, non volevo fare quello che stavo facendo. Quanti porno mi guardavo, quanto ero insicuro di me stesso. Ok? La mia vita, ti ripeto, si stava sgretolando un po' alla volta. E se dico queste cose è perché le ho vissute e so che là fuori probabilmente anche tu stai vivendo una situazione del genere. O ci sei passato anche tu. Forse meglio, forse un pelo peggio. Ma tutti noi abbiamo dei periodi bui e dei periodi difficili. E quindi cosa ho fatto per uscire da questo periodo? Ho iniziato a prendermi cura di me stesso a 360 gradi. Dal punto di vista fisico, dal punto di vista della dieta, dal punto di vista della mia mentalità, della spiritualità, della salute mentale, tutte queste cose qui. E giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, ho iniziato a vedere i risultati. Infatti il 2023, anche se è iniziato malissimo, si è concluso essendo uno degli anni più belli della mia vita. Uno degli anni più significativi, uno degli anni più appaganti, in cui ho fatto più esperienze, in cui mi sono sentito meglio, in cui sono stato più felice. E quando all'inizio del 2023 ho iniziato a trasformare la mia vita, ho detto, perché non documentare il processo? Perché non spiegare quello che sto facendo anche a chi mi segue? E ho aperto e iniziato a pubblicare i video su questo canale, che all'inizio era il secondo canale, giusto? E allora video dopo video, settimana dopo settimana, ho iniziato a condividere e soprattutto ad imparare cose nuove su cose nuove su cose nuove. E la dopamina e la dieta, la meditazione, la salute mentale, i social network e questo e quello, la produttività, la procrastinazione. Uno degli argomenti principali di cui ho parlato nello scorso anno su questo canale, quello è stato i social network. Perché? Perché l'altro anno ho realizzato una cosa. Ho realizzato che i social network sono pericolosissimi e nessuno ne parla. E io, persona che era dipendente dai social, ho voluto fare uno step indietro, ho voluto allontanarmi completamente dai social, eliminarli dalla mia vita e vedere quali fossero stati i risultati. Come mi sono sentito? Alla grande, onestamente. E di recente ho fatto un video su questo canale per raccontare la mia esperienza. E quindi ho iniziato a dirti di eliminare i social o comunque di utilizzarli in una maniera molto più intelligente. Cosa che comunque non è facile. Perché? Perché i social sono fatti per creare dipendenza. E io stesso ho semplicemente smesso di pubblicare sui social. Per esempio non ho messo un post su Instagram per sei mesi di fila. Proprio perché dall'anno prima in cui ero un creator, facevo storie di continuo, post, reel, eccetera, eccetera, sono andato nella direzione opposta. Ho detto no, stop, adesso non utilizzo mai più Instagram, TikTok, mi blocco e non creo più contenuti nemmeno per questa piattaforma. È solo YouTube perché è quella più ideale per me. E oltre al fatto di non pubblicare più su questi social network, cosa è successo? Che, e si può vedere in questo canale YouTube, ho iniziato a cambiare il modo in cui comunicavo. Ho iniziato ad adottare uno stile di comunicazione diverso che non era completamente il mio. Ho iniziato a essere più serio. Ho iniziato a essere, come dire, un personaggio che non ero io al 100%, che non ero io totalmente. Di recente però, dopo una serie di esperienze che ho avute, una serie anche di conversazioni importanti con delle persone a cui tengo, mi sono accorto di questa cosa, mi sono accorto del fatto che negli scorsi mesi della mia vita, del mio canale, ho cambiato il mio stile di comunicazione. E quindi faccio questo video per dirti questa cosa qui. Non so come si chiamerà questo video se, tipo, devo dirti una cosa importante o leone, sono tornato, una cosa del genere. Cosa intendo dire con queste cose, comunque? Il fulcro del video è che rinizierò a comunicare come comunico io. Questa è la cosa più importante. Rinizierò a essere me stesso al 100%, perché non lo sono stato. E sia chiaro, non lo sono stato dal punto di vista della comunicazione, non del messaggio che porto, ok? Perché sono sicuro che ci sono molte persone a cui sto ancora sulle palle, perché non credono nel mio messaggio, perché vogliono che continui a fare le routine di Cristiano Ronaldo o di qualcun altro, però quelle cose non le farò più, ok? Negli scorsi sei mesi della mia vita ho provato cose diverse che non avevo mai provato prima, ma proprio dal punto di vista di YouTube, dei video che ho fatto, del mio stile di comunicazione, il tutto per poter trovare la mia voce di nuovo, per poter trovare il mio modo di comunicare di nuovo. Perché vedi, quando facevo i video sul vecchio canale YouTube, il mio obiettivo era quello di intrattenere. Quindi dovevo intrattenere la maggior parte delle persone, dovevo far sì che le persone guardassero il mio video, si divertissero, sorridessero, fossero un pelo più motivati. Attualmente, e negli scorsi sette mesi si è vista molto questa cosa, ho cambiato direzione. Il mio canale YouTube, la mia vita, le mie intenzioni sono cambiate. Non voglio più intrattenere le persone, voglio aiutarle davvero a cambiare. Voglio aiutarti a trasformare la tua vita. Te che stai guardando questo video, Leone, voglio veramente darti gli strumenti, le conoscenze, la motivazione, l'ispirazione per poter trasformare la tua vita in meglio. Però gli ultimi sei mesi della mia vita sono stati fondamentali per farmi arrivare qua, per farmi fare questo video e per poi procedere come procederò su questo canale. E ti dico, ho news importanti o cose interessanti da dirti. Il concetto principale è questo. Mi sento come se avessi ritrovato il mio stile comunicativo, come se lo avessi ricreato e adesso sia a me stesso al 100%. Negli scorsi mesi non lo sono stato. Adesso mi sento me stesso al 100% e non vedo l'ora di fartelo vedere. Altra cosa fondamentale, qual è il futuro di questo canale? In questo canale parleremo di crescita personale, di migliorare, ok? Questo non è un canale di intrattenimento. Non sono qui per fare il numero più alto di visualizzazioni, sono qui per cambiare la vita a più persone possibili, a più ragazzi, a più uomini possibile. Se tu sei uno di quei ragazzi che ha voglia di migliorare, sei sul canale giusto. A livello di contenuti porterò i contenuti che ho portato fino ad ora, quindi dei contenuti così parlati, un pelo più tecnici in cui spiego determinate cose, ma anche dei vlog in cui ti mostro degli aspetti della mia vita fondamentale, perché penso che tu possa prendere molta ispirazione e possa avere un'idea di quella che è la mia vita attualmente, di come l'ho costruita, di quello che faccio giorno dopo giorno. E in più ogni tanto ci saranno anche delle sfide. E sai perché ci saranno delle sfide? Perché ho capito una cosa negli scorsi sette mesi in cui praticamente non ne ho fatte di sfide. Ho capito che le sfide mi piacciono, mi piacciono un casino. Non a caso ero conosciuto come lo youtuber delle sfide. Mi piace trovare qualcosa che mi metta la prova e superarlo, ok? Quindi ci saranno anche delle sfide. Non saranno giustamente con la costanza con cui le pubblicavo una volta, ma ci saranno. E molto probabilmente le lancerò anche a te queste sfide. Altre cose importanti prima di passare alla conclusione. Numero uno. In questo canale YouTube sarò diretto, non avrò molti peli sulla lingua. Sai perché? Perché là fuori, nel mondo degli influencer, degli youtuber, dei creator, mondo di cui faccio parte anch'io e di cui facevo ancora più parte una volta, ci sono un sacco di persone che stanno attentissime a cosa dire perché hanno paurissima dell'opinione degli altri. Bene, negli scorsi sei, sette mesi ho capito che voglio esprimermi come voglio e che ci sono persone a cui starò sul cazzo punto e basta. E va bene. E ci sono tante altre che invece mi supporteranno e apprezzeranno questo stile. Quindi sì, in questo canale non sarò politically correct, dirò le cose come le penso. Ogni tanto utilizzerò il termine ragazzina, che ha fatto impazzire un sacco di persone, ma lo userò e ti dirò le cose come stanno e come devi sentirtele dire. Perché in un mondo di persone in cui ti raccontano le bugie, in cui ti raccontano le cazzate per farti stare comodo e per non farti superare i tuoi limiti, dato che l'obiettivo che ho su questo canale è di farti migliorare e superare i tuoi limiti, ti dirò le cose come stanno. Negli scorsi mesi l'ho fatto, l'ho fatto in un modo che non mi apparteneva totalmente, adesso lo farò nel modo in cui mi appartiene, ma lo farò, ok? Quindi ti dirò le cose come stanno, sarò diretto, a volte sarò scomodo e ti starò sui coglioni. Ottimo! Perché spesso la verità fa male, spesso la verità brucia. E non voglio lasciarti a livello zero, a livello Timmy come sei adesso. Se vuoi salire di livello e passare a livello Tyler, o almeno provare a salire su quella scala, dovrò dirti le cose come stanno. E se attualmente hai una mentalità da perdente, che dà sempre la colpa agli altri, che non si prende mai la responsabilità, che trova scuse di continuo, allora o questo non è il canale giusto per te, o sono qua per prenderti un po' a parole e farti cambiare davvero, ok? Però sarò diretto. Non avrò troppi filtri, perché? Perché di filtri ce ne sono già tanti sulla bocca e sulla faccia delle altre persone. Voglio essere real al 100% e dirti le cose come stanno. Ci tengo a chiarire questa cosa. Se ti dà fastidio, per esempio, che io dica sei un uomo o una ragazzina, allora forse questo non è il canale per te. Se invece capisci il concetto che c'è dietro e dici, ah ok, vuole motivarmi, vuole farmi capire quel concetto lì, allora è il canale per te e soprattutto questo non è un canale per gente che non ha voglia di migliorare, questo è un canale per gente che ha voglia di migliorare e superare i propri limiti. Altra cosa, negli scorsi 6 o 7 mesi ho scoperto di avere degli haters, anzi mi sono fatto un po' di haters, un po' di gente a cui sto sulle palle, va benissimo, li vedete che commentano sui social, solitamente qua sotto scrivono letteralmente e fottutamente. Raga, ignorateli, è la cosa migliore, lasciate che continuino a scrivere letteralmente e fottutamente. Non devo neanche esprimermi a riguardo, c'è gente che passa le giornate così a commentare i video su Instagram e su YouTube, decisamente non è il target giusto per questo canale, ok? A te invece che sei nel target giusto, ignora i commenti del letteralmente e fottutamente e andiamo avanti con le nostre vite, ok? Ora arriviamo alla big news, la cosa importante di cui ti ho parlato all'inizio di questo video. Ti ho detto che le sfide mi piacciono perché mi hanno aiutato negli anni a migliorare un casino, a superare i miei limiti. Bene, ho deciso di creare la mia sfida alla quale anche tu potrai partecipare. Per ora si chiama Missione 58 ed è una sfida che ha davvero il potere di cambiarti la vita. Tra qualche giorno qui sul canale uscirà un video in cui ti spiego in che cosa consiste questa sfida, cosa devi fare per affrontarla, come fai ad iscriverti, tutti i dettagli a proposito di questa Missione 58, ok? Quindi iscriviti, metti like e stai pronto perché nei prossimi giorni esce questo video e saprai tutto quello che devi sapere. Leone, se sei pronto a cambiare la tua vita, fammelo sapere qui sotto nei commenti e ricorda un'ultima importantissima cosa, senti la paura e fallo comunque.